Grazie. rid sanity I I told him for theinin non ci sono due o tre come chan, non ci sono due o tre come chan, non ci sono due o tre come chan e non ci sono due o tre come chan non ci sono due o tre come chan e non ti amo molto a tutti ora ciisisiamo cosa la pensino è per i te no 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 non ci sono una grande Ricche è Maria Battistuta Battistuta? io lo chiamavo Battistuta è come il rimuo tuvi amaro Battistuta di Friore in Italia Sì, è da Italia, ma è originale da un argento nazionale. Qual è il nome di Firono? Firono? Firono, sì, è da Egypto. E abbiamo anche un Firono che è da lì. Smile! E abbiamo anche il Kinge di Usmani e l'Ayatollah di Iran. E l'Ayatollah è da lì. E l'Ayatollah è da Mansoor. E sono anche in mezzo, tra l'Ayatollah e l'Ayatollah. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Si è stato in Arafat. Affatat. Perchetti ha proprio l'Ayatollah. Sì, vai, ecco l'Acazzola. È da Saudi. Ok, con il!? Come, Christian... Riccio ha un bel pentemolo... C Cross, la P מא�… Non però... Cam 4… quando vuoi volerci la prossima settimana? o qualche giorno? quindi abbiamo 4 giorni free andiamo a spettare nel pool voglio andare al centro e voglio andare a spettare e magari un giorno voglio andare a spettare e un giorno voglio visitare un centro andiamo a spettare un centro e magari andiamo a Sofia o no ero in Sofia? ero 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 isu ero ero non è il vostro negozio con Senia io ero l'assistente del team con touch player e ho visto qui con il corso Senia Senia era solo un referee e aveva una grande moda un'attacco moda ho detto a lui se vuoi continuare se vuoi direttamente e poi andiamo a Iliac e poi andiamo a Iliac e poi andiamo a più vicino non mi sembravo non mi sembravo non mi sembravo ma mi sembravo ma mi sembravo e poi è importante questo non è il vostro esatto grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.